Buonasera a tutti, benvenuti, grazie mille della puntualità. Io sono Sara Poro, mi occupo di cibo anch'io, scrivo di cibo da molti anni. Non l'ho detto a Xaba, però mi sono preparata in realtà, vorrei cominciare questa serata raccontando il mio primo incontro con Xaba, che lei non ricorderà perché è stato un evento del tutto minore per lei, ma è assolutamente dirompente per me. Era alcuni anni fa il giorno prima del mio compleanno ed ero andata a cena a casa di mia madre. Noi ci conosciamo con Xaba di vista perché abbiamo un'amica in comune, Margo, che è una collaboratrice di Xaba, abitiamo anche a un angolo di distanza, molto vicine, però insomma ci eravamo viste a qualche evento, io ovviamente la conoscevo di fama. La sera prima del mio compleanno vado a cena a casa di mia mamma e a un certo punto guardiamo la televisione e c'è uno dei tuoi programmi. Io ricordo quella sera che lo stiamo guardando e ci sei tu in un meraviglioso giardino che servi un pranzo stupendo, su una tovaglia immacolata e a un certo punto dai delle indicazioni del tipo è sempre il signore che versa l'acqua nei bicchieri, quindi la brocca va tenuta orientata un po' in questa direzione e guardiamo entrambe rapite questa immagine di grazia e bellezza assoluta e io penso la mia vita è un disastro, è un disastro, io non sarò mai come Xaba. Dopodiché torno verso casa, quella sera esco, faccio serata, mi sveglio la mattina dopo abbastanza presto perché devo portare fuori il mio cane e ricordiamo è il giorno del mio compleanno per aggiungere miseria a quello che mi voglio raccontarvi. Quindi mi sveglio presto, sono un po' coi postumi della sbornia, mi getto addosso qualcosa, come se il palazzo fosse in fiamme la velocità con cui mi indosso qualcosa, esco di casa ed è il 30 agosto quindi non c'è aperto il bar dove vado tutte le mattine, c'è aperto soltanto questo bar super elegante che all'epoca era di Dolce Gabbana, si chiama Gold e quindi vado lì con il cane a fare colazione al Gold c'è un grande specchio a figura intera, io entro e mi guardo e penso oh no, sono in condizioni deprecabili, con ancora in mente questa immagine di Xaba e penso, io ve lo giuro è successo esattamente così, e penso pensa se mi vedesse Xaba dalla Zorza. in quel momento mi volto e c'è Xaba che mi saluta, ovviamente ignara del mio malessere interiore mi saluta e io dico solo Xaba con la voce esitante e vi giuro ho detto scusami non mi ricordo tutta questa bruttezza sinceramente no? e infatti lei invece di rispondere non capisco che cosa intendi perché comunque mi risponde e anche questo è molto Xaba secondo me, mi risponde che il mio è un perfetto outfit per una mattina informale in realtà amplificando ovviamente il mio disagio perché mi sento a quel punto ancora più inadeguata perché lei ha persino la risposta pronta in una circostanza del genere perché vi ho raccontato questa storia oltre per il fatto che la trovo molto buffa? perché in realtà quando poi ho conosciuto meglio Xaba, ho conosciuto meglio sia il suo lavoro che poi lei di persona ho scoperto che se non umana è quantomeno umanoide cioè non vorrei dire insomma abbassarti a livello da dire che sei una persona però quasi, ha dei tratti di umanità una sera abbiamo cenato vicino a uno stesso tavolo, abbiamo chiacchierato e in realtà ho scoperto insomma che come tutti noi la sua vita insomma ci sono state gioie e dolori sono state fasi complicate, momenti in cui ha dubitato di sé anche se ogni tanto riesce difficile immaginarlo e in realtà questo secondo me c'entra molto anche con il tuo libro perché appunto il titolo è Honestly Good e a me quello che piace di questo libro come di lei è che è esattamente come la vedete e come appare insomma c'è una profonda onestà sia nel lavoro che fa che nell'immagine che rappresenta e proprio la persona che è realmente ti chiederei appunto magari di partire dal titolo di questo libro e di quello che significa per te grazie Sara, comunque me lo ricordo quel giorno non era così tremenda assolutamente e poi era estate quindi in estate vale tutto, ad agosto a Milano un po' più di informalità esatto, perfetto outfit per una mattina colazione al bar non è colpa nostra se anche il mio bar preferito che è lo stesso tuo è chiuso ad agosto loro chiudono ancora un mese, dall'1 al 31, beati loro dunque Honestly Good sai che questo titolo doveva essere un hashtag perché io ho iniziato a parlare di cucina leggera, salutistica, diversa ecco se chi mi conosce da un po' di anni sa che quando apparecchiavo in quella bellissima casa che è una villa fuori Roma nota dell'autore affittata dal canale Alice per fare le puntate del mondo di Xaba immensa, c'è dentro pure una cappella privata usavo parecchio burro, lo uso ancora e per inciso nell'ultima settimana credo di averne comprata e consumato un paio di chili per motivi professionali però ecco a quell'epoca nel 2015 il mio incontro con una persona che è l'editore del libro Guido Tommasi ha prodotto una piccola virata nella mia cucina io già da un paio d'anni, dal 2013 stavo lavorando su ricette che fossero un po' più contemporanee quindi con cotture più brevi, con ingredienti nuovi sarà capitato anche a voi di andare al supermercato e vedere che negli ultimi 5-6 anni sono arrivate veramente tante cose che prima non c'erano dalla quinoa che è stata la reginetta delle novità qualche anno fa passando per il tofu, le alghe e tanti prodotti anche orientali ecco io avevo già iniziato nel 2013 a lavorare su queste ricette e le avevo iniziate a pubblicare sul mio sito e sui miei canali social con questo hashtag, Honestly Good che spiego appunto in Good Food il primo libro che nel 2015 Guido Tommasi mi ha detto a un certo punto in un altro bar, davanti a un'altra colazione smettila di fare storie, scrivilo e basta lo voglio fra tre mesi ho detto ok capo, va bene, sarà fatto e devo dire se lui non mi avesse detto in maniera così determinata lo puoi fare forse ad oggi non l'avrei ancora fatto quindi l'hashtag diventa un primo titolo Good Food e dopodiché due anni dopo esattamente il 12 ottobre di quest'anno quando è uscito Honesty Good esce invece il titolo originale avrei voluto metterci anche il cancelletto ma purtroppo non abbiamo potuto farlo perché se l'avessimo pubblicato come hashtag sarebbe impazzito il sistema di prenotazione del nostro distributore e quindi insomma avreste avuto grossi problemi ad acquistare il libro e quindi anche noi grossi problemi a venderlo invece so che le vendite stanno andando molto bene incidentalmente insomma sì, siamo molto contenti io personalmente sono contenta perché sono ricette molto facili e perché siccome questa è una delle ho già fatto diverse presentazioni di questo libro aspettavo tantissimo Torino e vi ringrazio di essere qui così numerosi perché da tanti anni non venivo a Torino a presentare un libro però nelle precedenti presentazioni mi sono resa conto che era un titolo atteso ma atteso con curiosità cioè per vedere se si potesse veramente fare un seguito perché sai fare un seguito di un libro che è andato molto bene può risultare tremendamente banale certo, poi sembra anche un protesto insomma editoriale semplicemente perché conti sul fatto come un sequel di un film insomma quindi invece deve avere un sacco di idee solide per proporre una cosa nuova un seguito sì, ecco, se c'è un seguito deve avere il suo perché non deve essere semplicemente una seconda puntata di qualcosa che funziona e ritengo che Honestly Good lo sia il sottotitolo del libro che è proprio un nuovo modo di cucinare mangiare e stare bene è quello che io voglio significare con le ricette che sono incluse sia in questo libro che direi anche nel precedente oggi noi abbiamo bisogno di conoscere un po' meglio il cibo perché vedo tante signore che hanno la mia età e sicuramente si ricorderanno cos'è stato negli anni Ottanta quando iniziavano ad arrivare quei prodotti un po' così di moda macrobiotica ve li ricordate i biscotti quelli con la crusca che ne mangiavi uno e poi ti servivano due litri di tè per mandarlo giù uno erano dietetici perché il tempo di fare colazione ti permetteva di mangiarne uno quindi era ovvio che non arrivavi neanche al secondo si autolimitavano erano talmente cattivi che ti facevano passare la voglia di mangiare i biscotti la mattina poi la crusca l'abbiamo anche messa nello yogurt magro un'altra cosa che le donne si sono auto inflitte almeno io mi sono auto inflitta e c'era questa moda tale per cui se un cibo era buono ti faceva sicuramente male se un cibo era cattivo lo mandavi giù e ti faceva sicuramente bene ecco il mio libro vuole dimostrare la tesi contraria non è vero che se una persona oggi vuole mangiare bene deve per forza privarsi del gusto o sentirsi a dieta anche perché come dice questa non è mia di Nigella Nozon nessuna donna nasce per stare a dieta volentieri secondo me neanche nessun uomo no nessuno nasce per stare a dieta volentieri questo proprio mi collego a quello che hai detto ora per dire appunto perché secondo me un libro come il tuo e come altri buoni libri che stanno avendo pubblicati nel mondo in questo momento è molto utile rispetto a questo tema il tema del mangiare in modo salutare che è ben diverso dal mangiare in modo salutista la questione è che le persone che in teoria dovrebbero dirci come mangiare in modo sano cioè figure professionali come un nutrizionista, un medico generalmente non sanno come si cucina bene e allo stesso tempo le persone che di formazione invece cucinano bene spesso per esempio si interpelli un cuoco l'esperienza del ristorante è comunque un'esperienza che non è quella di quello che mangiamo quotidianamente il ristorante è una circostanza speciale è normale che in un ristorante si mangi con un apporto calorico un po' superiore o che si mangi più gustoso, un po' più condito una cosa che diceva Anthony Bourdain è che la ragione per cui i piatti del ristorante sono più buoni è che il burro è la prima cosa che arriva in una padella e l'ultima cosa che ci viene messa questo non è necessariamente il modo in cui si cucina a casa ed è normale che il ristorante si mangi così appunto perché è un'esperienza speciale appunto anche prima ne stavamo discutendo anche dell'importanza di sottolineare le ricorrenze senza privarsi di nulla insomma ma magari su questo torniamo e quindi è molto importante avere qualcuno che in qualche modo crei un ponte tra avere delle competenze o delle intuizioni anche perché appunto non bisogna essere scienziati per sapere come mangiare bene e quando dico bene intendo in modo salutare e allo stesso tempo abbia una competenza da cuoca come sei tu io faccio la casalinga quindi devo cucinare per forza perché avendo famiglia ho deciso di cucinare io sono tante persone effettivamente che hanno famiglia ma hanno scelto magari di non cucinare credo che la cucina del ristorante debba essere come ha detto Sara sarà un'esperienza gourmand perché comunque vai fuori oggi siamo anche un po' abituati ad andare fuori tra virgolette quando non abbiamo la spesa in casa o non abbiamo voglia di cucinare però in realtà mi piace pensare che andare fuori a cena sia per la compagnia e per provare anche dei piatti diversi quello che cerco di fare io nel mio lavoro è di dare delle indicazioni molte persone mi hanno scritto anche sul sito in questi anni da quando è uscito Good Food che grazie al mio libro hanno cambiato il modo di fare la spesa ecco questo secondo me è il punto perché se tornate indietro a quello che facevano le vostre nonne andiamo un attimo indietro con la testa negli anni 60 50-60 ecco le donne degli anni 50-60 avevano ben chiaro qual era la stagionalità dei cibi perché andavano al mercato avevano ben chiare quali erano le cotture quelle più gustose magari che facevano un po' o tanto male e quelle invece più salutari come la cottura al vapore che già soltanto il nome sa di poco buono e invece non è così c'era una cultura proprio da cultura popolare che non era riservata a chi aveva studiato per fare la spesa e per cucinare bene non dovevi avere una laurea in chimica per sapere la composizione degli ingredienti e andando anche un po' più avanti dopo gli anni 70 quando sono nata io penso che mia mamma non si sia mai posta il problema di sapere se nel piatto che ci metteva davanti quando eravamo bambini e che lei chiamava cena ci fosse stato del glutine, del lattosio, delle proteine animali o vegetali quello che invece oggi è particolare è che tutti parlano di cibo e tutti vogliono parlare di nutrizione molti fanno anche i gran professoroni e quindi bisogna anche fare attenzione a chi ci dice no assolutamente questo no questo no perché se mettiamo insieme tutto quello che la comunicazione sul cibo ci sta dicendo si produce una domanda e la domanda è questa io me la sono posta prima di scrivere Honesty Good la domanda è ma quindi io mangio bene o no? e cosa dovrei mangiare per mangiare bene? cioè cosa vuol dire mangiare bene? mangiare bene significa fare la spesa e cucinare avendo consapevolezza di quello che stiamo facendo se noi sappiamo che cosa ci fa bene che cosa ci fa male e quindi ci sappiamo limitare direi che grossi problemi non ce ne sono poiché oggi la comunicazione è spesso difficile io a volte quando leggo alcuni libri di colleghi italiani o anche non italiani leggo e non capisco e dico è complicata questa cosa se non la capisco non mi va di sentirmi stupida e quindi salto all'altra pagina vado alla ricetta successiva e magari si parla di cibo alcalino ma mi deve imparare a memoria 32 tabelle anche io ho fatto un capitolo sull'alcalino nel primo libro ho cercato di fare una tabella con un po' meno di 32.000 righe che fosse staccabile e appendibile sul frigorifero ma soprattutto imparabile tra virgolette a memoria senza dover prendere una laurea in scienza della nutrizione se si parla di senza glutine spesso in Italia si parla di una moda l'ultima ricerca che è stata pubblicata a settembre diceva che in Italia ci sono 6 milioni di persone che acquistano prodotti senza glutine non perché sono celiaci ma perché seguono la moda dell'essenza glutine questo è un peccato perché intanto chi ha questa malattia va rispettato e poi perché probabilmente non sanno che ci sono tante cose in natura che il glutine dentro non ce l'hanno oltre al fatto che il glutine non è velenoso il glutine non fa male io c'è una sola cosa che spero che passi insomma è veramente il glutine fa male a una muscola percentuale di allergici e che anche sono moltissime a diagnosticarsi da soli una intolleranza al glutine che è una cosa che la scienza in realtà non riconosce attualmente cioè un'allergia al glutine purtroppo è una condizione molto severa ma non c'è nessuna ragione di privarsi del glutine se non per questa allergia ed è anche la quantità non è assolutamente rilevante rispetto a questo quindi davvero non e questo appunto dimostra anche nel tuo libro tu dici correttamente anche quali sono tutti i problemi legati all'industria perché a un certo punto io mi ricordo le pubblicità in cui mi ricordo c'è stata molto contestata una pubblicità se non ricordo male del riso scotti per esempio in cui il testimonial diceva ed è dietetico perché è senza glutine cosa che ha ovviamente poi il tipo di potere che ha un messaggio pubblicitario quindi con ripetuto continuamente con grandi investimenti alle spalle è molto diverso da quello che hanno poi persone che invece richiamano un po' al buonsenso o alla norma scientifica quello che la pubblicità sosteneva di intendere è che dietetico nel senso che per chi segue una dieta senza glutine va bene ma in realtà ovviamente tutti l'hanno inteso come ovviamente la pubblicità sperava che fosse inteso cioè fa dimagrire è meno calorico una cosa che è completamente falsa anzi spesso nelle cose senza glutine fatte apposta dall'industria perché siano senza glutine sono estremamente caloriche perché invece del glutine ci metti alto esatto come la stessa etichetta è biologico la persona pensa che se è biologico è sano no se è biologico è coltivato secondo certi parametri ma se poi nella merendina biologica che mettete in cartella al vostro bambino il primo ingrediente è lo zucchero anche se lo zucchero è di canna proveniente da coltivazione biologica al corpo fa male un pochino meno perché magari non hai pesticidi ma comunque fa male ad esempio per quanto riguarda il diabete tanto quanto lo zucchero non biologico tu sarai detto una parolina che mi ha acceso una riflessione che è industria ecco oggi secondo me quando noi pensiamo come faccio a mangiare bene tante persone mi hanno chiesto alla fine della presentazione ma quindi in pratica lei cosa ci consiglia di fare ecco il mio consiglio che non è soltanto quello che è nel libro ma il mio consiglio da sempre è di non comprare se non veramente poche cose prodotti che sono confezionati perché il cibo non nasce in scatola e laddove il cibo è in scatola quasi sempre è un cibo artefatto quindi la scatola dovete girarla e leggere gli ingredienti e gli ingredienti bisogna anche imparare a leggerli una regola che vale per tutti l'ha detto Michael Pollan non lo dico io se girate una confezione ci sono degli ingredienti che non sapete cosa sono li mettete a posto perché se sono ingredienti veri li conoscete se iniziano a essere nomi strani o sigle probabilmente vi fanno male questo è il primo modo per distinguere il secondo modo è proprio quello di limitare cioè guardare nel proprio carrello al supermercato ma soprattutto anche andare magari a fare la spesa più nelle botteghe locali e comprare prodotti sfusi tutto quello che arriva nella plastica al di là dell'inquinamento al di là dell'etica che c'è dietro al consumo o al non consumo di queste cose ma probabilmente è stato più conservato più manipolato ecco quindi se c'è una regola da seguire è cercate di non comprare le cose che hanno una confezione e state assolutamente alla larga da quelle confezioni che vi promettono di raggiungere un risultato cereali che hanno più vitamine per partire alla grande e alla mattina piuttosto che prodotti che ti dicono prendi questo avrai la pancia piatta per aver la pancia piatta bisogna fare ginnastica cioè non è tanto quello che mangi e a volte non basta nemmeno questo a volte non basta nemmeno quello ma sicuramente non saranno dei cereali mangiati a colazione che ti faranno venire la pancia piatta neanche se non li mangi quindi figurati se li mangi dunque tu parlavi di appunto dell'acquistare nelle botteghe locali e in realtà parlavi anche delle regole di Michael Pollan e mi hai fatto venire in mente che appunto la sua regola prima quella prima di tutte è appunto di mangiare cibo nel senso di cibo vero non cibo falso che è quello dell'industria e poi dice soprattutto verdure e tu nel tuo libro dedichi molto spazio alle verdure che sono se vogliamo il punto di partenza di qualunque menù che si mette insomma che si prepara quando si comincia a pensare a un pasto al solito si suggerisce di partire dalla verdura certo ma questo in passato era naturale cioè se ritorniamo a quegli anni 50-60 quindi già quando l'Italia andava verso il benessere non voglio parlare dell'inizio del secolo tra le due guerre quando magari non c'era da mangiare ma la carne se ci pensate era riservata dei momenti di festa mio nonno mi raccontava che a Natale si mangiavano delle cose diverse rispetto al resto dell'anno quindi i dolci e quindi lo zucchero la carne specialmente rossa alcuni grassi arrivavano sulla tavola sporadicamente perché la tavola era prevalentemente imbandita con pietanze vegetariane banalmente perché i contadini avevano quello banalmente perché costava di meno e anche perché faceva bene ma non era quello il motivo perché erano tempi non sospetti e non non si pensava di non mangiare la carne anzi io sono cresciuta con il pediatra che diceva mia mamma di mangiare carne rossa che così cresce ecco spero che molti pediatri oggi si siano aggiornati però purtroppo non è una verità verdure io ho fatto un capitolo tutto dedicato alle ricette vegetariane ma con l'idea di far capire che se mangi vegetariano non ti stai privando né del gusto né tantomeno del piacere della buona tavola sempre mio nonno che se n'è andato l'anno scorso in perfetta salute a 95 anni diceva e beh ma se lui era toscano diceva se non c'è la ciccia cosa si mangia se non c'è la carne mia nonna non avrebbe mai mai potuto affrontare l'affronto di invitare persone e non mettere la carne in tavola perché per chi aveva fatto le guerre mettere in tavola l'arrosto significava far vedere che la famiglia era al di là delle preoccupazioni economiche quindi era come per noi dire mi sono comprato la macchina nuova o aprire una bottiglia di champagne però per noi che siamo seduti qui non è così noi non dobbiamo mettere in tavola l'arrosto per dire che non siamo disoccupati cioè ci mancherebbe oggi si può tranquillamente ricevere con dei menù vegetariani e lo si può fare per scelta e poi si può anche mangiare la carne io resto onnivora nel libro nell'introduzione presento una teoria che è quella di Brian Cateman che lui ha coniato questa parola che è teoria dell'essere reducetariani ha scritto un libro che è uscito quest'anno che si chiama The Reducetarian Solution per ora solo in inglese ma spero lo tradurranno lui è un ragazzo americano giovane molto allegro e coinvolgente che fa questo show che potete vedere su youtube dove spiega perché lui non è né vegetariano né vegano e dove comunque spiega che il 95% della popolazione più o meno europea o americana perché lui è americano è onnivora perché c'è un motivo perché mangiare è un piacere o almeno per me mangiare è un piacere non so per te Sara ma penso di sì con il lavoro che fai dovrebbe essere anche bere ecco quindi se mangiare è un piacere noi non dobbiamo privarci di una cosa che ci fa stare bene quindi se noi decidiamo quello che dice Cateman è molto onesto ed è anche il motivo per cui io l'ho inserito proprio nell'introduzione lui dice che diventare vegani o vegetariani è una scelta per la vita e rispetta moltissimo chi riesce a farla lo paragona a una persona che nello sposarsi giura fedeltà alla moglie lui parla da uomo ed è in grado di sapere che per tutta la vita non la tradirà mai per tutta la vita e poi lui dice perché se io tornassi a casa stasera dicendo a mia moglie che gli sono fedele tranne quelle due o tre volte all'anno che vabbè prendo una sbandatina avrei dei grossi guai e quindi dice io mi definisco reducetariano nell'alimentazione perché non me la sentirei di rinunciare per sempre alla carne al formaggio alle uova al pesce però mi sono imposto di ridurre lui ha fatto un meno 80% il suo consumo pro capite e poi dice anche ma se ciascuno di voi che guarda il mio show riducesse non dell'80% ma solo del 20% che resta il proprio consumo tenete conto che lui è americano e in America c'è un consumo di carne settimanale esagerato già non esisterebbero più gli allevamenti intensivi quindi se abbiamo bisogno di darci un'etichetta io mi do quella dell'essere reducetariana perché sicuramente oggi la carne la mangio forse due o tre volte al mese più due che tre anche perché è diventato più difficile andarsi ad approvvigionare di quelle carni buone che arrivano da mucche che se un altro hanno fatto una vita da bestie ma una vita non che sono state allevate in fretta e furia e pompate con io non prendo medicine non voglio prendere gli antibiotici nella carne o nel pollo quindi alcune cose biologiche magari non tutte si riescono ancora a comprare in Italia biologiche però altre cose semplicemente ridotte perché se noi pensiamo che possiamo avere tutto tutti subito e sempre ecco questo purtroppo è quello che sta un po' affossando il nostro mondo perché non possiamo avere tutto per tutti a basso costo sempre questo è quello che l'industria ci ha dato quando noi l'abbiamo chiesto l'abbiamo chiesto noi quindi l'industria non è una onlus l'industria ha come obiettivo il profitto quindi se una persona fa l'industriale prende delle cose le lavora e le rivende per ricavarne un profitto poi ci sono anche delle persone ovviamente che magari lo fanno con un'etica incredibilmente alta ma se noi ci stupiamo perché l'industria del cibo vuole guadagnare ci stupiamo senza averne diritto perché se è un'industria il profitto è il suo normale obiettivo però noi ci siamo fatti un po' ingannare perché noi abbiamo detto all'industria io voglio soprattutto noi donne avere un prodotto che è pronto subito quindi non voglio più stare in cucina come mia mamma e mia nonna voglio fare veloce quindi dieci minuti un quarto d'ora e l'industria ha detto fantastico dal freezer al microonde cosa c'è dentro non lo stavamo chiedendo noi in quel momento perché non stavamo chiedendo un prodotto sano noi stavamo chiedendo un prodotto veloce poi ci siamo rese conto che quel prodotto ci faceva ingrassare sempre noi signori allora abbiamo detto adesso però vorrei una cosa che non mi fa ingrassare l'industria ha detto perfetto prodotto pronto light solo che aveva tolto i grassi magari aveva tolto lo zucchero aveva etichette su questi prodotti molto incoraggianti ma io mi chiedo a volte ma se una mozzarella ha lo 0% di grassi come fa a diventare una palla di cosa sta con qualcosa la tengono insieme al di là del gusto che poi magari sulla mozzarella a zero grassi per dargli un po' di sapore gli metti tanto sale e tanto olio allora ti compravi una bufala e andava meglio quindi l'industria il marketing io arrivo da lì perché prima di fare questo lavoro ho studiato marketing e il marketing è una scienza è veramente una scienza che prepara un prodotto che vada bene per l'esigenza del mercato quindi il marketing dice benissimo la signora ha chiesto un prodotto veloce e io lo preparo oppure la signora non ha chiesto niente io gli faccio venire voglia di un prodotto veloce e ce lo pubblicizzano esattamente come tu dicevi prima con il riso in un modo che noi magari che guardiamo la pubblicità distrattamente pensiamo che comprando quel prodotto raggiungeremo quell'obiettivo e oggi attenzione perché la grande moda del mangiare sano sta facendo fare il giro al boomerang all'indietro perché fino a un paio d'anni fa l'industria non era dentro i prodotti sani adesso ci si è buttata a capofitto aziende che fino a poco tempo fa pubblicizzavano mucche felici che pascolavano e davano il latte avevano anche il nome oggi hanno grandi campi di soia transgenica chiusa parentesi l'integrale che non piaceva a nessuno oggi lo mangiano tutti piace anche ai camionisti peccato che magari non è esattamente integrale come dovrebbe essere quindi leggere l'etichetta è importante ecco forse vale la pena che ci racconti un po' qual è l'integrale vero e qual è l'integrale che non lo è perché tecnicamente non è forse semplicissimo però in realtà tu lo spieghi molto bene ed è in realtà una norma abbastanza semplice da seguire io ho disturbato in vacanza due mugnai veri ad agosto no a luglio quando stavo finendo il libro perché volevo essere sicura di scrivere con parole semplici quello che tutti voi potete verificare se andate sul sito del ministero delle politiche agricole spero che si chiami così perché la mia conoscenza dei nomi dei ministeri è abbastanza limitato lì c'è scritto sostanzialmente che si definisce farina integrale una farina che può essere fatta in diversi modi il primo modo è prendo il chicco di grano intero e lo macino tutto in quel caso sarebbe meglio che fosse biologico perché macini anche l'esterno che potrebbe essere stato esposto a tutta una serie di trattamenti anche chimici questa farina è una farina che si contraddistingue per due caratteristiche è un pochettino più scura perché ovviamente è anche la parte esterna del chicco e quindi anche la crusca oltre al germe di grano ed è una farina che è leggermente più bagnata perché il germe di grano ha dentro degli oli essenziali che sono la sua caratteristica e non vengono eliminati alcuni dicono che si può fare soltanto a pietra altri la fanno anche con i rulli invece cilindrici in acciaio e va bene ma comunque è una farina che parte da un chicco intero macinato questa farina chi la produce la vende spesso e volentieri con la dicitura contiene germe di grano o chicco macinato intero perché perché poi c'è un'altra farina integrale che invece è farina bianca 00 alla quale è stata inserita in aggiunta una percentuale di crusca mi sembra che sul sito ci sia scritto circa il 3% forse 3 virgola qualche cosa però questa farina integrale non è integrale perché il 97% è farina bianca 00 aggiungendo il 3% di crusca diventa etichettabile come integrale quindi se io giro un pacco di pasta e c'è scritto ingredienti due punti farina integrale 100% come faccio a sapere se è farina vera o farina non vera ad esempio potrei guardare la data di scadenza perché uno dei motivi per cui si mette la crusca è che la farina bianca quale sono stati soliti gli oli la parte oleosa ha una data di scadenza molto più lontana perché è più secca più stabile ovviamente certo quindi per quella che in gergo tecnico è definita la vita scaffale è un prodotto che può costare molto di meno perché io lo produco oggi lo posso vendere per un anno e mezzo 18 mesi invece un integrale fatta col chicco intero lo produco oggi lo devo vendere entro 6 mesi quindi magari deve avere un prezzo più alto perché poi mi torno indietro e lo devo smaltire ma anche il prezzo non è una cosa da guardare perché oggi tante persone ad esempio spendono di più e nello spendere di più si mettono in pace la coscienza dicendo guarda preso lo yogurt quello che costava di più sarà sicuramente il più buono è difficile è molto complesso scegliere bene io non sono sicura di avere capito il 100% però direi all'80% credo di esserci arrivata e questo l'ho trasferito nelle pagine del libro poi al contrario dell'essere riduce italiano invece sei cioè l'80% almeno lo capisci sì insomma credo che sia perché poi ovviamente ci si sente anche un po' sopraffatti dalla quantità di informazioni che dovremmo da un momento all'altro padroneggiare però insomma cominciando proprio da zero leggere un'etichetta già soltanto non solo cose che non capisci ma se la lista di ingredienti è molto lunga per esempio già soltanto in base a quanto spazio occupa la lista di ingredienti già questa è un'indicazione senza nemmeno mettersi a cercare di capire quanto capiamo effettivamente del contenuto ma io penso che sono concetti molto quelli che abbiamo raccontato adesso sono molto facili ho una figlia che ha 10 anni che impazziva fino a qualche mese fa per un gelatino di cui non vi dico la marca ma di quelli nel biscotto che tutte le sue amiche mangiavano e voleva questo gelato e voleva questo gelato ho detto vabbè andiamo a comprare questo gelato al supermercato dopodiché lei che è abituata a leggere le etichette perché noi a casa lo facciamo ha mangiato il gelato ha detto quanto era buono come ero stata brava che gliel'avevo comprato poi ha guardato gli ingredienti e poi ha detto io ho mangiato questa roba così io ho mangiato questa roba ha detto io gli altri non li voglio mangiare perché nella lista se voi girate un gelato industriale la lista degli ingredienti è infinita sono scritti piccolissimi lei ha preso la lente per guardarli una lente che noi usiamo tipo quella da Franco Bolli e poi ha detto non si capisce niente perché sono tutti nomi strani ecco non è in un gelato ci dovrebbero essere in base al gusto beh sicuramente il latte le uova probabilmente della panna o magari del cioccolato o del cacao però dei nomi di cose che ci ricordano un sapore invece se io leggo una lista di ingredienti il cui significato mi è totalmente oscuro dovrei diffidare allora fino adesso abbiamo parlato molto di cucina della tradizione quindi spesso ho fatto riferimento a quelle cose che sapevano fare le nonne negli anni 50-60 in realtà come è naturale insomma noi non possiamo veramente partonare indietro all'orologio e tu lavori tante delle tue ricette hanno tanti degli ingredienti anche feticcio degli ultimi anni che sono buonissimi e però sono diciamo importazioni recenti che vengono da altre culture che dal mio punto di vista sono tutte cose che poi arricchiscono la nostra cultura quelli che mia madre definisce cose che io preferisco non mangiare so il tema ma magari ci fai anche tu qualche esempio di qualcuna delle cose che preferisci usare ma oggi direi che le big news del 2018 saranno sicuramente ancora la curcuma che è la nuova quinoa e poi invece la vera tendenza che da noi non è ancora arrivata ma a breve arriva è il cacao crudo che si è scoperto invece essere più antiossidante del temacia ma tipo 30 volte superiore cioè tantissimo io mi sono divertita a inserire un po' di ingredienti soprattutto orientali per due motivi intanto avendo vissuto in Giappone una piccola parte della mia vita mi ricordava comunque una cucina a cui sono affezionata e poi il secondo motivo che frequentando il reparto etnico dei vari supermercati Carrefour Coop eccetera mi sono resa conto che oggi anche delle cose particolari come la pasta di miso che fa benissimo tra l'altro soprattutto in questa stagione perché ha un fermentato naturale che è quasi come un antibiotico fino a 5-6 anni fa dovevi andarla a comprare a Londra o fartela spedire portare dall'amica che tornava io spesso uso Margo che viaggia molto più di me per farmi portare ingredienti che arrivano da fuori ma oggi invece puoi andare alla Coop o al Carrefour o all'Esselunga o alla UNES e trovarli al reparto etnico e quindi ho messo anche qualche ricetta un po' particolare quella che forse mi piace di più è il ramen perché io in questo periodo lo mangio molto spesso che è questa zuppa se vogliamo orientale fatta col brodo di miso e poi con dentro gli spaghetti che sono i loro noodles che sono degli spaghetti un po' più corti rispetto ai nostri anche un po' più sottili poi si può fare con le verdure si può fare col pollo si può fare col pesce con l'uovo si può fare veramente in mille modi ad esempio ai miei figli piace molto e anche un motivo forse per cui non si ammalano è che la pasta di miso che è fermentata ti dà questa capacità di sviluppare meglio e potenziare le tue difese immunitarie normali ma lo sapevano bene sempre ancora i nostri nonni cioè oggi credo che l'attualità del cibo sia data da due fattori da un lato essere un po' ritornati all'origine quindi cose che si sapevano anche prima si cucinavano anche prima ma che erano passati di moda uno per tutti i crauti piuttosto che lo yogurt fatto in casa o anche la pasta se vi dico fermentato probabilmente è il capitolo più ostico se però vi dico pasta madre ah beh allora quello cioè chi non ha la pasta madre nel frigorifero io perché qualcuno ha la pasta madre nel frigorifero ho già il gatto sono abbastanza sono abbastanza mamme di pasta madre ecco fermentato ci sono alcune cose che sono semplici da capire altre magari come il kimchi che ho messo una ricetta perché è tanto di moda questo cibo coreano l'ho fatto giuro dividendo le porzioni di aglio per cento moltiplicando per due quindi alleggerendo molto però ecco quello magari è un sapore che non a tutti piace può essere una cosa da provare per dire l'ho fatto una volta mi sono divertita un po' come quando alcuni di voi avranno fatto la marmellata fatta in casa piuttosto che i sottaceti quelle cose che comunque puoi comprare di ottima marca senza metterti tu a fare la confettura però se hai voglia di farlo può essere anche uno stimolo per farlo la ricetta c'è poi quando hai una casa che ti ha preso in affitto Alice poi hai un frutteto immagino dedicato con cui fare lì c'era tutto lì c'era veramente tutto quella è stata la mia serie più buffa perché loro volevano far vedere un po' la grandezza e credo che ci siano riusciti ma lì c'era anche il maggiordomo che andava al frutteto e portava poi la frutta assolutamente lì c'era anche sono sicura che in quella casa c'è anche il laghetto con i pesci che si possono pescare all'occorrenza e con i gamberi d'acqua dolce c'è tutto c'è tutto assolutamente allora parlavi di marmellate e a questo punto mentre magari ci avviamo verso la chiusura così c'è anche tempo per voi di fare qualche domanda molto volentieri siamo a disposizione e a questo punto parlando di marmellate c'è un capitolo che tu hai dedicato appunto allo zucchero all'interno di questo libro che è un'altra delle cose che vengono demonizzate un po' cioè la mia migliore amica per scherzare ha sempre detto alla sua figlia che lo zucchero era il suo dolce nemico quindi lo chiama soltanto così e lei chiedeva cose dolci dicendo il mio dolce nemico il mio dolce nemico quando aveva due anni insomma ovviamente un po' passata questa cosa che lo zucchero bianco in particolare è equivalente a satana come malvagità e tu anche nel libro insomma spieghi un po' meglio come funziona ho una buona notizia e una brutta quale vuoi prima? io temo la mia relazione con lo zucchero è poco sana da tempo quindi io sono un po' in recovery dallo zucchero nel senso che sono stata una persona che mangiava tantissimo zucchero e che progressivamente un po' si è tarata diversamente ma senza forse anche perché ho un palato un po' più adulto e quindi mi sono abituata adesso avevo sempre trovato pensavo che le donne che dicevano che di una cosa che era troppo dolce fossero come quelle che hanno i tacchi a spillo e dicono che sono comodi come le pantofole che lo dici che lo dici ma non lo pensi e invece devo dire se ti educhi a mangiare meno zucchero ti dà fastidio tanto zucchero a un certo punto io non riesco più a bere il caffè con lo zucchero ad esempio mi da disturba certo ma penso che lo zucchero insieme alla farina ma anche il burro ad esempio la carne sia uno di quei prodotti che poverini è stato demonizzato senza motivo ma sempre perché l'industria ci vuole vendere un qualcosa di diverso perché nel burro ci hanno detto il burro fa malissimo mangiate la margarina la margarina fa peggio del burro però poi ce l'hanno detto qualche anno dopo la farina 00 una volta una signora mi ha detto ma lei dà ai suoi figli la farina 00 sì oddio non gli fa male no dipende non è che la mangiano con un cucchiaino dal pacchetto però se mangiano un panino può andare bene e lo zucchero è la stessa cosa intanto oggi c'è questa moda nella moda dello zucchero di canna lo zucchero di canna e lo zucchero bianco hanno lo stesso numero di calorie fanno male uguali sono due prodotti identici solo che arrivano da due vegetali diversi uno è fatto con la canna da zucchero quello marrone l'altro è fatto con la barbabietola quello bianco ma comunque sono zuccheri raffinati poi la nostra industria sempre molto scaltra per arrivare al suo obiettivo crea questi nomi di fantasia tipo zucchero grezzo allora la mia mamma che ogni tanto dice siccome ti voglio bene cerco di fare come dici tu però poi mi stufo perché non ci riesco al quarto pacchetto di zucchero che mi portava dicendo questo è integrale gli dicevo no mamma questo dice scritto zucchero di canna no zucchero di canna greggio no zucchero muscovado no ci vuole la dicitura integrale e lei mi ha detto ho capito ma quello sembrava era duro non riuscivi neanche a prenderlo quel cucchiaino è vero allora magari non è lo zucchero che fa per te non è detto alcuni io nella foto che ho messo nel libro ho messo anche quello proprio il panetto di zucchero quello che si grattugia ecco non è proprio il massimo la mattina se vuoi mettere una grattugiatina di zucchero nel caffè intanto se la fa mio marito devi aspirare poi tutta la cucina quindi non è proprio comodo però se mettete un cucchiaino di zucchero magari di quelli di canna integrale o semi integrale che è un modo per togliere un pochino del senso di colpa non troppo va bene lo stesso lo zucchero che fa male come il burro che fa male come i grassi che fanno male come l'olio di palma che fa male non è quello che tu sai che mangi ma è quello che tu mangi senza averne la consapevolezza noi abbiamo drogato il nostro cervello è quello dei nostri figli con lo zucchero un paio di anni fa The Guardian uscì con una prima pagina bellissima che io ho pubblicato sul mio sito con 15 prodotti healthy quindi salutistici che ti stanno imbrogliando ecco io avrei tanto voluto vedere una prima pagina di un quotidiano così anche in Italia perché loro avevano comprati i prodotti girato le etichette dicendo qui c'è troppo zucchero cioè tre della lista avevano lo zucchero come primo prodotto allora se è salutistico lo zucchero non può essere il primo ingrediente nella lista perché sennò o è zucchero punto cioè non ci sono altre cose o altrimenti non può essere una cosa light quindi sullo zucchero io credo che posso spendere una parola indifesa io ho fatto questo capitolo con sistemi alternativi per rendere dolce un dolce magari mettendoci datteri magari mettendoci il miele magari mettendoci lo sciroppo d'acero quindi cose che sostituiscono lo zucchero ma alcune persone mi hanno detto eh sì però se c'è il miele non è vegano eh però se c'è il dattero è molto calorico allora la brutta notizia e forse anche la bella è questa la brutta notizia è che un cibo che non faccia niente non esiste ma non ci serve neanche perché il cibo a noi serve per carburare sarebbe come pensare di andare in macchina senza fare mai benzina così non inquiniamo e risparmiamo peccato che non hanno ancora inventato il modo per andare in macchina senza usare la benzina quindi possiamo usarne meno di automobile ma se noi non facciamo la benzina una volta ogni tanto l'automobile non va il nostro corpo è lo stesso lo zucchero ci serve per il cervello e infatti negli anni 70 c'era anche lo zucchero pieno di vita perché poi l'industria capisce cosa noi pensiamo e ci suggerisce la risposta i grassi ci servono per il cervello per la pelle una volta sempre con Angela Lawson che è una donna che io adoro perché è veramente proprio brava come persona a un'intervista lei disse questo la giornalista che rimase stupefatta del fatto che sembra molto più giovane cioè porta molto bene i suoi anni perché lei ha esattamente 10 anni più di me e ha una pelle spettacolare e questa giornalista le chiese qual era il suo segreto pensando a una crema di bellezza eccetera lei rispose con estrema serenità bevo tantissima acqua e mangio moltissimo burro e quindi sono molto ben idratata ecco e però è vero cioè comunque i grassi al nostro corpo servono proprio alle cellule perché senza grassi il nostro corpo sta male senza zuccheri il nostro cervello non mangia senza proteine i nostri muscoli si inflaccidiscono quindi io posso tranquillamente prendere le proteine dal mondo vegetale però devo saperlo fare perché poi se diventi vegano come è successo ad esempio a una ragazzina che è la sorella di un compagno di classe di mia figlia che è in ospedale da due mesi perché lei ha 15 anni e quindi con la moda che c'è a Milano delle modelle devi essere magra eccetera ha preso la tangente del divento vegano fai da te e si è fatta male ed è ricoverata adesso pesa pochissimo è diventata anoressica perché? perché alla fine poi magari quando non hai la consapevolezza finisci che mangi solo pasta poi dici la pasta mi fa ingrassare allora non mangio più neanche la pasta io sono andata a parlarci perché sua mamma mi ha detto per favore valla a trovare visto che la conosci falle capire che si può mangiare anche tutto e non essere taglia 56 e lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto male veramente proprio mi ha fatto sentire inutile e poi uscendo dall'ospedale invece ha dato anche un senso al mio lavoro ma lei mi ha detto Xabba io ho smesso di mangiare perché a un certo punto mi sono resa conto che se volevo essere magra se volevo diventare bella diventare bella non c'era un cibo che non facesse male perché se tu leggi bene tutto fa male e quindi alla fine bevevo e basta questi beveroni che mi vendevano e lei senza che i suoi genitori se ne accorgessero perché era già al liceo ha affrontato due mesi in cui beveve e basta finché un giorno è andata per terra e l'hanno ricoverata e ha rischiato di morire adesso non riesce chiaramente a mangiare ma mi ha fatto questa domanda ma è vero che il cibo può essere amico o lo dicono soltanto i dottori perché lei mi ha anche detto una cosa molto intelligente mi ha detto sai i dottori che te lo dicono loro sono grassi io non voglio diventare così la mia dottoressa che mi cura lei è grassa io non voglio essere come lei io voglio essere magra e poi mi ha guardato e mi ha detto io voglio essere magra come te tu mangi io ho detto sì tu lo sai che io mangio perché noi ci conosciamo nella vita vera cioè sei venuta a mangiare a casa mia io sono venuta a mangiare a casa tua però non mangio tutto non mangio magari il pacchetto di patatine intero e la coca cola perché quello non è cibo utile per me quindi quello che ho cercato di fare con il libro Sara è di spiegare a un'ipotetica vittoria così si chiama questa ragazza che lo zucchero può non essere il tuo dolce nemico può essere una cosa che ti concedi però come tutti i nemici se li conosci li puoi combattere quando soccombi quando sei preso alle spalle quindi attenzione perché a volte l'industria ci prende alle spalle e ci prende alle spalle perché ci giriamo noi non perché è subdola ma perché noi ci giriamo e non vogliamo vedere perché il pacchetto è un cubo o un parallelepipido quindi noi possiamo girarlo io mi devo portare gli occhiali al supermercato se no non leggo perché le etichette le fanno piccole piccole e quindi se vogliamo scegliere possiamo scegliere se vogliamo mangiare bene ci sono tanti modi delle occasioni per farlo io per ora ho messo insieme quasi 200 ricette come esempio tra questo ovviamente Honestly Good e poi il libro che hai pubblicato invece nel 2015 Good Food prima di questo e quindi insomma ci auguriamo che diventi una serie con altre ricette vedremo Grazie a tutti